Per la ristrutturazione puoi accedere allo sconto in fattura del 50% sia supporte, infissi e su tutta la gamma di prodotti da noi utilizzati e per le finestre anche senza ristrutturazione. Nusco, ispirati dalla tradizione, progettati al futuro. Parlano di amministrazione comunale allo sbando i consiglieri comunali di opposizione all'indomani di quanto si è verificato nel corso della riunione del parlamentino cittadino di ieri pomeriggio. Il rinvio della stragrande maggioranza dei punti all'ordine del giorno ha scatenato l'ira della minoranza. Per questo il gruppo consigliare di Siamo Cavesi ha chiesto alla maggioranza una serie assunzione di responsabilità. Ieri è stata scritta una pagina difficile, per certi versi anche triste, l'ennesima dell'amministrazione Servalli. È stato che ha convocato il consiglio comunale per deliberare su cinque punti, in realtà ne ha deliberato solo su uno, peraltro propedeutico ad un altro. Già prima del consiglio era stato preannunciato il ritiro di due punti in commissione. Altri due punti fondamentali che andavano approvati entro il 31 di dicembre sono stati rinviati. Il primo è il bilancio consuntivo, uno strumento importantissimo per un vizio di forma. Praticamente i consiglieri comunali l'hanno ricevuto non rispettando il termine di 48 ore imposto dall'articolo 33 del regolamento comunale. E quindi adesso si riproporrà questo nel consiglio comunale convocato il 31 dicembre alle ore 12. E poi dovevamo deliberare su un debito fuori bilancio. E in questo caso, atto gravissimo, mancava il parere dei revisori contabili. Diciamo che per onestà il sindaco ha compreso che si trattava, anzi ha etichettato anche egli queste due misure come estremamente superficiali, grossolane, gravi, atti che non si erano mai avuti. E saggiamente anche lui ha proposto di rinviare gli ordini al punto del giorno. Ma quello che emerge appunto è questa gestione grossolana, superficiale. In un momento in cui invece fuori dal palazzo di città c'è difficoltà. Una difficoltà che noi tutti conosciamo per la pandemia. Noi avremmo bisogno di sicurezza, certezze. Una barca che viaggia con la barra dritta, invece questa è una barca alla deriva. Purtroppo la città di Cava di Tireni non merita questo, meriterebbe tutt'altro. Quindi chiediamo sicuramente a questa amministrazione di fare un atto di coscienza, di rendersi conto di ciò che accade e potrebbe accadere e di assumersene le proprie responsabilità. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Italo Cirielli. Questa seduta consigliare ha dato prova dell'inconsistenza della maggioranza. La situazione che stiamo vivendo come città è complicata, ma l'inconsistenza di chi ci governa è diventata drammatica. Per uscire da questo impasse, tuona ancora Cirielli, la città necessita di un nuovo governo, che sia finalmente in grado di ridare dignità a Cava di Tireni.